ciao benvenuto nella mia cucina 200 grammi di melanzane 140 grammi di lenticchie 30 grammi di parmigiano un uovo 50 grammi di pangrattato io sto usando quello di riso perché elimino radicalmente dalla mia dieta la farina 00 a scelta faccio della cipolla io sto usando il porro e l'aglio per il soffritto iniziale e a scelta potete mettere la noce moscata e il pepe nero perché non metto il sale 15 grammi giusto per il soffritto di olio io come al solito uso il mio fantastico robot non ti uso iniziamo preparare un po di soffritto un cucchiaio solo di olio extravergine d'oliva poi non ho bambini quindi posso mettere l'aglio che ha scelta e metto il porro a posto della cipolla e lo faccio soffriggere per un po da solo il mio robotino moscè così andrà a rosolare per tre minuti a 100 gradi chi non avesse questo naturalmente prodotto può tranquillamente usare una padella nelle mie ricette non metto mai del sale al massimo mi aiuto un po col parmigiano nelle lenticchie che magari il sale viene utilizzato per il mantenimento e vado a risciacquare un po una volta tolto l'aglio aggiungo le lenticchie e le melanzane le melanzane sono già state passate qualche minuto in forno oppure le potete fare al vapore vado a tritare tutto quindi melanzane e lenticchie aggiungo il resto degli ingredienti quindi uovo pangrattato e parmigiano non mettendo altro sale oltre a quello già contenuto nel parmigiano vado a insaporire con a mio piacimento noce moscata e pepe vado ad amalgamare il tutto mentre il mio forno si sta già riscaldando a 180 gradi prendo il mio impasto e faccio delle mini polpettine io non le ripasso nella nella farina di riso o il pangrattato di riso ad ogni modo potete tranquillamente farlo molto semplice ed è una ricetta carina da fare anche con i vostri bambini è una ricetta gustosa ottima salutare soprattutto un buon escamotage per far mangiare i vostri bambini sia la verdura che i legumi con le grammature che vi ho fornito sono riuscita a fare nove polpette di queste dimensioni in casa mia siamo solamente in due quindi non ho esagerato con le porzioni intanto in forno e a 180 gradi per 20 minuti le lascio cuocere controllerò dopo 20 minuti al massimo aggiungo di qualche minuto nella cottura ecco pronte le nostre polpette buon appetito ciao ciao